dei miei cani, ho perso un cane, giorno dopo dovevo fare una puntata di amici come giudice ma io non potevo neanche parlare, figurati parlare del cane ma non mi riusciva niente ho detto boh cosa faccio, chiamo Maria e dico che non posso venire invece sono andato, non so che cosa è successo, forse il cane che ho aperto bocca era più brillante che mai, fatta una puntata da Dio ha finito la puntata e non potevo più parlare, era pazzesco ciao, ok tu chi sei? ok, senza parlare ok, va bene, l'ho messo in Dio non lo so, siete troppo carini e se vi siete prestati un gioco cretino ciao, ci vediamo dopo mi confermi che siamo il numero 11 ciao, ci vediamo ciao, ciao ciao, ciao ciao, ciao